benvenuto a imparo giocando con tom susi mili e biff grandi pulizie ciao che bello rivederti siamo pronti per le nuove fantastiche avventure di imparo giocando con tom susi mili e biff stiamo facendo le pulizie nel garage di biff susi tom e biff sono già là andiamo da loro fai clic sull'etichetta con il tuo nome se questa è la prima volta che giochi con noi fai clic sulla stella vieni ad aiutarci a fare le pulizie siamo nel garage di biff c'è un po di confusione attenzione ai ragni e alle ragnatele forza andiamo dagli altri ciao tra pochi giorni traslocherò siamo tutti nel mio garage a fare pulizie e a controllare questi scatoloni dove c'è tutta la mia vecchia roba meno male che io non devo traslocare non c'è bisogno di cambiare casa per mettere un po in ordine dobbiamo fare un po di pulizie perché mi trasferisco in una nuova casa e bisogna preparare bene gli scatoloni per il trasloco comunque non è male che ti trasferisci eh biff verrai a stare più vicino a casa mia sì tom così potrai venire a giocare da me più spesso oh biff ma cosa c'è in questo scatolone è troppo pesante da sollevare scommetto che dentro ci sono tutti i libri sulla natura di biff no è pieno di vecchie foto chi è il bimbo in questa foto biff sono io da piccolo che carino biff giocavi col tuo trenino ricordo bene quel trenino ci giocavo ogni giorno ce l'hai ancora devo essere in uno di questi scatoloni biff ho spolverato un po in giro e ora stai di nuovo impolverando tutto guardate sul pavimento c'è un ragno che cammina è un ragno aiuto non aver paura tom è solo un ragnetto probabilmente più spaventato lui di te i ragni non mi piacciono proprio bla il ragno se è andato ora puoi scendere beh a dir la verità non mi dispiace stare quassù una volta tanto sono io il più alto tom sei così alto che quasi non ti vedo vuoi aiutarci a mettere in ordine il garage di biff se vuoi aiutarci a mettere un po in ordine fai clic in giro per il garage troverai un sacco di giocchi e di sorprese il ragno aiuto 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 Ah, Biff! Guarda questa foto! Chi è? Mia zia! Ehi! Accendete la luce! No! Di nuovo! Chi ha spento la luce? Chi ha spento la luce? Cominciamo a giocare con gli insetti e altri piccoli animaletti! Ciao! Oggi osserveremo degli insetti e altri piccoli animaletti! Useremo la lente d'ingrandimento per vedere da vicino queste piccole creature! Ecco gli insetti e gli altri animaletti con cui giocheremo! Con la lente ingrandirò una parte del loro corpo e tu dovrai indovinare di quale animaletto si tratta cliccandoci sopra! Quando avrai indovinato otto animaletti ti darò un pezzo del puzzle! Bene! Giochiamo a insetti e altri animaletti! Ecco il primo da indovinare! Vediamo se indovini quale sto osservando! E questa cos'è? È un'ala! Quindi questo è un insetto volante! Quale potrebbe essere? Non è quello giusto! Ti mostro l'ingrandimento di un'altra parte di questo animaletto! Questo animaletto ha due occhi enormi che lo aiutano a vedere le cose che si muovono intorno a lui! Che insetto è? Ottima scelta! È una mosca! La mosca è un insetto! Ha due ali e sei zampe! Le zampe e il corpo sono ricoperti di peli! All'estremità di ogni zampa ha un piede con dei cuscinetti appiccicosi che le permettono di camminare sul soffitto! Le mosche, posandosi sulla sporcizia, trasmettono dei germi che finiscono sul nostro cibo quando ci si appoggiano sopra! Sapevi che le mosche riescono a distinguere i sapori con le zampe oltre che con la bocca? Strano, vero? Eccone un altro! Quale potrebbe essere? Questo insetto ha sul capo due antenne per orientarsi! Ha anche delle potenti mandibole che si muovono di lato e non su e giù! Con queste può prendere delle foglie molto più grandi di lui! Lo riconosci? Giusto! È una formica! Le formiche sono degli insetti! Alle formiche piace molto il lavoro di squadra quando raccolgono foglie e semini! Vivono in gruppi chiamati colonie! Come tutti gli insetti hanno sei zampe! Alcune hanno le ali per volare! Ma questa no! Sai dirmi di che animaletto si tratta? Questa creaturina ha una corazza fatta di scagliette unite l'una all'altra! Sai di che animaletto si tratta? Esatto! È un porcellino di terra! Il porcellino di terra ha sette paia di zampe! Quattordici in tutto! Quindi non è un insetto! Vive sotto i sassi e in luoghi umidi! Soprattutto nel legno! Se è spaventato si avvolge a palla! Riesci a indovinare di che animaletto si tratta? Questo è l'ingrandimento di un'ala! C'è un insetto che per volare ne usa quattro uguali a questa! Di quale insetto si tratta? È un'ape! L'ape è un insetto che vive assieme a tante altre api in una casa chiamata Alveare! Di giorno ronza tra i fiori e raccoglie il nettare! Un cibo dolcissimo che nell'alveare viene trasformato in miele! Riesci a indovinare di che animaletto si tratta? Questa creaturina ha il corpo fatto di scagliette e ha un'infinità di zampe! Riesci a indovinare che animale è? È un millepiedi! Nonostante tutte le zampe che ha, il millepiedi si sposta molto lentamente! Se spaventato, si appallottola! Il millepiedi vive in zone buie e piuttosto umide! E si nutre di piante che stanno morendo! Riesci a indovinare di che animaletto si tratta? Questo insetto volante ha due paia di lunghe ali! Riesci a indovinare qual è? È una libellula! La libellula è un insetto che vive vicino agli stagni! Con le sue sei zampe, cattura degli insetti più piccoli volando a pelo d'acqua! Esiste dal tempo dei dinosauri, quando era enorme, lunga come il braccio di un uomo! Riesci a indovinare di che animaletto si tratta? Ecco qualcosa di scuro e lucente! Quale insetto ha una corazza lucida come questa? È un coleottero! Questo coleottero ha una corazza lucente, sotto cui nasconde le ali quando non vola! Come tutti gli insetti, ha sei zampe! Anche le coccinelle apportengono alla famiglia dei coleotteri! Ecco l'ultimo animaletto da indovinare! Questo insetto ha sei zampe sottili e lunghe, ma si muove lentamente! Riesci a indovinare di che animaletto si tratta? È un afide! L'afide è un insetto dannoso per le piante degli orti, perché sgranocchia di tutto! Come i cavoli, insalata, le foglie delle patate e dei fagioli! Questo insetto è il cibo preferito delle coccinelle e dei ragni! Hai indovinato otto animaletti! È fantastico! Ti meriti un pazzo del puzzle! Fai clic su di me se vuoi osservare da vicino altri piccoli animaletti! Se invece vuoi tornare a dare una mano agli altri in garage, fai clic sul pulsante con la casa! Ciao! Siamo ancora nel garage di Biff! Lo stiamo aiutando a preparare il traslocco! In questi scatoloni abbiamo trovato di tutto! Guardate cosa ho trovato! Una maglia che indossavo quando ero piccolo! Ah! Eri molto piccolo, Biff! Davvero! Adesso in questa maglia non ci entrerei proprio! Potrebbe andar bene a me! Ehi! Chi ha spento la luce? Non c'è niente da ridere, Millie! Al buio potevamo cadere e farci male! Questo garage mi fa anche un po' paura! Abbiamo già visto un ragno spaventoso! Ok, mi dispiace! Ah, Biff! Guarda questa foto! Chi sono questi? I miei genitori, prima che io nascessi! Biff, sai che assomigli un po' a tuo padre? Ne ho dici anche la mamma! Spero di diventare alto come lui da grandi! Biff, quanto è alto tuo padre? È alto così! No! È più alto! È alto così! È ancora più alto! Caspita, Biff! Tuo padre è davvero alto! Scommetto che non deve salire sui gradini per arrivare a questo scaffale! Quante cose che bisogna ancora sistemare! Potresti aiutarci a fare un po' di pulizie? Fai clic qui intorno per vedere cosa puoi trovare! Sì, un ragno! Aiuto! Giochiamo subito! Ciao! Oggi Biff si trasferisce nella sua nuova casa e il furgone dei traslochi deve trovare la strada per arrivarci! È pronto per partire! Riesci a inserire le lettere mancanti sul percorso in modo che il furgone possa percorrere tutta la via dell'alfabeto! Sulla strada che collega la vecchia casa di Biff con la nuova ci sono scritte le lettere dell'alfabeto ma ne mancano alcune! Il furgone dei traslochi percorrerà la via dell'alfabeto! Quando arriverà su una delle buche tu dovrai trovare la lettera mancante e cliccarci sopra scegliendola tra quelle che vedi ai bordi dello schermo Se è quella giusta la lettera coprirà la buca che c'è sulla strada e il furgone potrà proseguire il suo percorso Il furgone deve fare due viaggi La prima volta mancheranno delle lettere minuscole ma nel secondo viaggio le lettere mancanti saranno tutte maiuscole Se riuscirai a coprire tutte le buche che il furgone incontra in entrambi i viaggi ti darò un pezzo del puzzle! Prima che il furgone dei traslochi si metta in moto devo sapere quanto ti senti in gamba Se pensi di riuscire a trovare otto lettere per coprire le buche sulla strada fai clic sul pulsante blu Se invece pensi di riuscire a trovare dodici lettere mancanti fai clic sul pulsante arancione Bene! Partiamo! Oh no! E questa cos'è? Una buca in via dell'alfabeto C! Grande! Ce l'hai fatta! Vada avanti, signor autista Caspita! Queste buca sulla strada stanno rallentando il furgone Ce la fai a coprire questa? Peccato, non è la lettera giusta per coprire questa buca D! Evviva! Hai coperto la buca! Possiamo ripartire! Oh no! E questa cos'è? Una buca in via dell'alfabeto F! La lettera ha coperto la buca Ripartiamo! Ferma! Caspita! Un'altra lettera mancante! Sai qual è? I! Hai trovato la lettera mancante! Ora il furgone può proseguire Oh no! E questa cos'è? Una buca in via dell'alfabeto Ilunga! Te la cavi così bene che arriveremo alla nuova casa di Biffi in un attimo Presto! Trova la lettera mancante così il furgone potrà proseguire L! Evviva! Ripartiamo! Bene! Il semaforo è verde! Possiamo passare! Ehi! Una buca in via dell'alfabeto! Riesci a trovare la lettera che manca P! Hai trovato la lettera mancante! Ora il furgone può proseguire Il furgone si è fermato di nuovo Fai clic sulla lettera che manca La trovi ai bordi dello schermo Q! Evviva! Ripartiamo! Il furgone si è fermato di nuovo Fai clic sulla lettera che manca La trovi ai bordi dello schermo T! Evviva! Hai coperto la buca! Possiamo ripartire! Oh no! E questa cos'è? Una buca in via dell'alfabeto V! Te la cavi così bene che arriveremo alla nuova casa di Biffi in un attimo Presto! Trova la lettera mancante così il furgone potrà proseguire X! Grande! Ce l'hai fatta! Vada avanti signora autista Presto! Trova la lettera mancante così il furgone potrà proseguire Z! La lettera ha coperto la buca Ripartiamo! Eccoci arrivati alla nuova casa di Biffi! Bella eh? L'autista ha parcheggiato il furgone Scarichiamo tutte le cose della famiglia di Biffi Ora il furgone dei traslochi è vuoto e può tornare indietro Perfetto è ricco l'euro! Perfetto è ricco l'euro senza Fini che si deve per fare Il furgone di Biffi Fun fact-bara Perfetto è ricco l'euro Perfetto è ricco l'euro Perfetto è ricco l'euro Perfetto è ricco l'euro Il furgone è pronto per partire con il secondo carico! Bene, partiamo! Oh no! E questa cos'è? Una buca in via dell'alfabeto! C! Grande! Ce l'hai fatta! Vada avanti, signor autista! Questa è la casa di Francesca, un'amica di Biff. Caspita! Queste buca sulla strada stanno rallentando il furgone! Ce la fai a coprire questa? E! Evviva! Hai coperto la buca! Possiamo ripartire! Il furgone si è fermato di nuovo! Fai clic sulla lettera che manca! La trovi ai bordi dello schermo! H! Evviva! Ripartiamo! Oh no! E questa cos'è? Una buca in via dell'alfabeto! Ilunga! La lettera ha coperto la buca! Ripartiamo! Questa è la sede dei lupetti, dove Biff va con il suo amico Paolo! Ehi! Una buca in via dell'alfabeto! Riesci a trovare la lettera che manca? K! Te la cavi così bene che arriveremo alla nuova casa di Biff in un attimo! Il furgone si è fermato di nuovo! Fai clic sulla lettera che manca! La trovi ai bordi dello schermo! Oh! Hai trovato la lettera mancante! Ora il furgone può proseguire! Ehi! Una buca in via dell'alfabeto! Riesci a trovare la lettera che manca? P! Grande! Ce l'hai fatta! Vada avanti, signora autista! Guarda! Il campo di calcio dove Biff fa le partitelle con gli amici! Presto! Trova la lettera mancante! Così il furgone potrà proseguire! R! Evviva! Hai coperto la buca! Possiamo ripartire! Bene! Il semaforo è verde! Possiamo passare! Il furgone si è fermato di nuovo! Fai clic sulla lettera che manca! La trovi ai bordi dello schermo! T! Evviva! Ripartiamo! Oh no! E questa cos'è? Una buca in via dell'alfabeto! V! Te la cavi così bene che arriveremo alla nuova casa di Biff in un attimo! Ferma! Caspita! Un'altra lettera mancante! Sai qual è? W! Hai trovato la lettera mancante! Ora il furgone può proseguire! Biff sarà contento di abitare così vicino alla biblioteca, perché così potrà prendere in prestito i libri sulla natura! Caspita! Queste buche sulla strada stanno rallentando il furgone! Ce la fai a coprire questa? Non è esatto! Riprova! Z! La lettera ha coperto la buca! Ripartiamo! Hai coperto tutte le buche che c'erano in via dell'alfabeto! Adesso puoi coprire anche una parte del puzzle con questo pezzo che ti do! Se vuoi giocare ancora, fai clic sulla nuova casa di Biff! Se invece vuoi tornare dagli altri in garage, fai clic sul pulsante con la casa! Eccoci di nuovo nel garage! Adesso ci vedi! Adesso no! Millie! Stavo solo spolverando l'interruttore della luce! Qui è tutto impolverato! È un po' come un antico castello disabitato da secoli! Chissà cosa troveremo in questi scatoloni! Ci saranno tantissimi i miei vecchi giocattoli! Ora che sono cresciuto, regalerò i miei vecchi giocattoli a un asilo! Così altri bimbi ci potranno giocare! È un pensiero molto gentile, Biff! Biff, penso che abbiamo quasi finito di mettere in ordine! Sì, Biff, ora andiamo un po' fuori a giocare! Ma dobbiamo ancora sistemare la mia stanza! Biff! Credo invece che ci sia ancora molto lavoro da fare, mentre noi finiamo di fare le pulizie! Perché non fai clic qui intorno per fare i nostri fantastici giochi? Sì, un ragno! Aiuto! Ok, cominciamo a pesare gli oggetti! Grande! Sei pronto a divertirti usando la bilancia? Qui dentro ci sono tantissime cose da pesare sulla bilancia! Prima di cominciare a pesare gli oggetti che si trovano nel garage di Biff, devo sapere quanto ti senti in gamba! Se pensi di saper usare bene la bilancia, fai clic sul pulsante blu! Se invece senti di poter superare qualsiasi prova con la bilancia, fai clic sul pulsante arancione! Bene! Io sceglierò tre oggetti che si trovano nel garage di Biff! Poi ti chiederò qual è il più pesante o il più leggero! Tu dovrai semplicemente fare clic sugli oggetti e trascinarli uno alla volta sulla bilancia per pesarli! La bilancia indicherà il loro peso in chili! Quando metti qualcosa sulla bilancia, la freccia si sposta e indica un numero, così! Questa scatola pesa tre chili! Quando avrai finito di pesare gli oggetti, ti chiederò qual è il più pesante o il più leggero! Tu dovrai fare clic sulla risposta giusta, scegliendo tra queste possibilità! Se risponderai correttamente a sei domande, pesando gli oggetti sulla bilancia, ti darò un pezzo del puzzle! Quale di questi oggetti è il più leggero? Fai clic sugli oggetti e trascinali sulla bilancia uno alla volta! Questo pesa un chilo! Quando hai finito di pesare un oggetto, devi toglierlo dalla bilancia! Questo pesa tre chili! Questo pesa due chili! Quale di questi oggetti è il più leggero? Prova un'altra volta! Giusto! Quale di questi oggetti è il più pesante? Pesa ciascuno di questi oggetti! Questo pesa cinque chili! Questo pesa due chili! Questo pesa un chilo! Quale di questi oggetti è il più pesante? Bene! Quale di questi oggetti è il più pesante? Comincia a pesare gli oggetti! Questo pesa quattro chili! Questo pesa un chilo! Questo pesa due chili! Quale di questi oggetti è il più pesante? Esatto! Quale di questi oggetti è il più leggero? Fai clic sugli oggetti e trascinali sulla bilancia uno alla volta! Questo pesa tre chili! Questo pesa cinque chili! Fai clic! Questo pesa due chili! Quale di questi oggetti è il più leggero? Giusto! Quale di questi oggetti è il più pesante? Pesa ciascuno di questi oggetti! Questo pesa due chili! Questo pesa due chili! Questo pesa un chilo! Questo pesa quattro chili! Quale di questi oggetti è il più pesante? Bene! Quale di questi oggetti è il più leggero? Comincia a pesare gli oggetti! Questo pesa due chili! Questo pesa un chilo! Questo pesa quattro chili! Quale di questi oggetti è il più leggero? Peccato! Non è giusto! Non è ancora quello giusto! Devi trovare quello più leggero! Esatto! Complimenti! Sei il campione della bilancia! Ti meriti un pezzo del puzzle! Se vuoi giocare ancora, fai clic su di me! Se invece vuoi tornare ad aiutare Biff a riempire gli scatoloni per il trasloco, fai clic sul pulsante con la casa! Bene, iniziamo! Ciao! Mi sono divertita un sacco a guardare le foto di Biff! C'era anche una foto di lui da piccolo con il pannolino! Non è buffo come cambiamo crescendo! Dentro di me mi sento sempre uguale! Ma il mio aspetto esteriore è cambiato da quando ero piccolina! Chissà come sarò da grande! Facciamo un gioco su come cambia l'aspetto a mano a mano che si cresce! Ho delle vecchie foto che possiamo utilizzare! Ho sei fotografie! Devi ordinarle! Mettendo al primo posto la foto con la persona più giovane e in fondo la foto con la persona più anziana! Fai clic sulle foto e trascinale nell'album! Ricordati di ordinare le foto dalla persona più giovane a quella più anziana! Quando scegli una foto, devi riuscire a metterla al posto giusto prima di proseguire scegliendone un'altra! Se metterai tutte le foto al loro posto, ti darò un pezzo del puzzle! Metti le foto in ordine! Esatto! Riesci a mettere un'altra foto al suo posto? Riprova! Giusto! Riesci a mettere un'altra foto al suo posto? Ben fatto! Da grande vorrei essere una principessa! Anzi, un medico! Oppure un'insegnante! O una scienziata! Non ho ancora ben deciso! Riesci a mettere un'altra foto al suo posto? Esatto! Riesci a mettere un'altra foto al suo posto? Giusto! Riesci a mettere un'altra foto al suo posto? Ben fatto! Ben fatto! Hai messo tutte le foto al loro posto! Adesso, ascolta quello che hanno da dire! L'unica cosa che i bimbi piccoli sanno fare da soli è piangere! Hanno sempre bisogno di qualcuno che gli dia da mangiare, che li vesta e che si prenda cura di loro! Che baccano! Oh, che baccano! Si chiamano adolescenti i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 18 anni! È una gran bella età, perché non si è più bambini, ma non si è ancora adulti! Salve! Chissà cosa farai da grande! Potresti diventare un'insegnante, uno scienziato spaziale o entrambe le cose, se vuoi! Molto dipende solo da te! Ciao, tesoro! Questa signora è una nonna! Vuol dire che i suoi figli sono diventati grandi e a loro volta hanno avuto dei figli! Se vuoi che ti parli ancora di queste persone, fai clic sulla loro foto! Fai clic al di sopra dell'album fotografico, se vuoi continuare! Ora che hai messo tutte le foto al loro posto, ti posso dare un pezzo del puzzle! Fai clic sull'album fotografico! Se vuoi continuare a giocare! Oppure, fai clic sul pulsante con la casa, se vuoi tornare dagli altri in garage! Benvenuto a Movimento! Il puzzle animato per il tuo divertimento! Guarda! Eccoti un pezzo di puzzle da inserire! Scopri dove devi metterlo e poi trascinalo nella posizione giusta! Esatto! Bel lavoro! Ecco qua un altro pezzo da sistemare! Dove devi metterlo? Bene! Ottimo lavoro! Ecco qua un altro pezzo da sistemare! Dove devi metterlo? Perfetto! Ecco qua un altro pezzo da sistemare! Dove devi metterlo? Esatto! Bel lavoro! Congratulazioni! Questa parte del puzzle è completa! È giunto il momento di esplorarla! Prova a fare clic sulla figura e stai a vedere cosa succede! Non dimenticarti che ci saranno altri quattro pezzi di puzzle da cercare nel prossimo numero! C'è un gran silenzio qui! Biff, sei sicuro che ci siano degli animali che vivono nella giungla? Sshh! Guarda! Te lo dicevo che c'erano! Bravo Biff! Li hai trovati! Caspita! Guarda quegli ippopotami come sguazzano contenti nel fango! Susi! Conosco una canzone che cantano gli ippopotami! Ascolta! Fango, fango, meraviglioso fango! Niente di più bello per tener fresco il cervello! Biff, gli ippopotami non cantano! Sbuffano e basta! Ma allora non sei poi così esperto di natura! Oh Susi! Stavo solo scherzando! Quando fai così, sembri una scimmietta dispettosa! No Biff! Quella è una vera scimmietta! Ahahah! Oh no! Abbiamo svegliato la pantera! Presto andiamo via! Biff, pensi che la pantera ci seguirà fino a casa? No Susi! Non conosce la strada! Biff, pensi che la pantera! Ti piacerebbe creare dei cartoni animati tutti tuoi? Beh, adesso puoi farlo! Con questa incredibile macchina Produci Cartoni puoi creare i tuoi fantastici cartoni animati! Questo è Pucci! È uscito a fare un giretto! Non succede niente di particolare! E Pucci si sta annoiando! Ma tu stai per rendergli la giornata molto più interessante! Quando fai clic su una di queste figure, a Pucci succederà qualcosa! Per registrare quello che succede a Pucci, fai clic qui sul pulsante di registrazione prima di fare clic su una qualsiasi figura. Per aiutarti, quando posizionerai il mouse sulle figure, io pronuncerò le parole a cui corrispondono. Nei due minuti che hai a disposizione per creare il tuo cartone animato, puoi fare clic su tutte le figure che vuoi. Quando avrai finito di creare il tuo cartone animato, fai clic sul pulsante Stop e poi sul pulsante Play per rivederlo. Ecco che arriva Pucci! Fai clic sul pulsante di registrazione per registrare il tuo cartone animato. Alt! Devi aspettare il verde! E' la giornata ideale per un giretto! Ma questa strada è un po' noiosa! Ops! Mancato! Su per i gradini Poi di nuovo giù! Occhio alla scala! Attenzione! Attenzione! Fai clic sul pulsante Play per vedere quello che hai appena registrato. Alt! Devi aspettare il verde! Alt! Splash! Superi i gradini Poi di nuovo giù! Occhio alla scala! Occhio alla scala! Attenzione! 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 Il tuo cartone animato era davvero divertente! Ci sai proprio fare! Se vuoi creare un altro cartone animato fai clic sulla macchina Produci cartoni Se invece vuoi tornare dagli altri fai clic sul pulsante con la casa Aggiungersa! Per le cose che andre Chi